Così Colombo, lui col suo volere, seppe convincere l'ignoranza artrui, e come ci arrivò col suo pensiere, eccola siccome, dunque per cui, risevo sempre lì, fammer piacere, lui perché la scoprì, perché era lui, si invece fosse stato un forestiere, che ce scopriva, li mortacci sui, quello invece ti inventa l'incredibile, che se poi quello avesse avuto appoggi, ma quello avrebbe fatto l'impossibile, si c'aveva l'ordegni di Marina, che si trovano adesso al giorno d'oggi, ma quello ne scopriva una ventina.